Si è tenuto questa mattina presso Palazzo Antaldi l'incontro per presentare il progetto umanitario di solidarietà internazionale tra il centro di accoglienza per bambini e ragazzi di strada di Soddo in Etiopia e le scuole superiori di Pesaro sulla scia delle opere missionarie di Abba Marcello. Abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di avere con noi circa 200 studenti di tutte le scuole superiori di Pesaro per illustrare un progetto di solidarietà internazionale nato nel 2009. Questo progetto è nato al liceo scientifico Marconi di Pesaro dove io insegnavo perché nello stesso momento Abba Marcello che è mio fratello e che vive ormai da 28 anni in Africa stava costruendo una cosa importantissima un centro di accoglienza per bambini di strada per offrire a questi bambini che non hanno un futuro vivendo nella strada un'opportunità e un obiettivo di costruire una vita di qualità e dignitosa. È nato come progetto di solidarietà perché ho coinvolto gli studenti, tutti i docenti, il personale anche non docente e tutti insieme abbiamo raccolto dei fondi per dare un piccolo contributo per la costruzione di questo centro che costava circa un milione di euro. Cambio in facendo abbiamo scoperto che questo progetto di solidarietà era un importantissimo progetto educativo perché i ragazzi che hanno avuto l'opportunità di visitare il centro e sono oltre 500 in sostanza hanno rimesso in gioco, in discussione, hanno riscoperto valori che loro dentro hanno e qui fanno fatica ad emergere. L'associazione è nata tramite un gruppo di volontari che sono stati a trovare proprio nel centro dei ragazzi di strada di Abba Marcello, stati a trovarlo, si sono innamorati del suo progetto e hanno iniziato a divulgare qui nel nostro territorio questa iniziativa. Negli anni siamo cresciuti e ad oggi siamo circa una quarantina di soci, tutti volontari, che ci diamo da fare per cercare di sostenere sia da un punto di vista finanziario le opere ma anche di promuovere valori di solidarietà, condivisioni e attività di volontariato che fanno riferimento ad Abba Marcello. Esperienze e valori, quelle che il viaggio in Etiopia trasmette, che vengono raccontati anche da alcuni ragazzi presenti all'incontro. Un viaggio che ti porta a stare con te, a uscire dalle tue paure, dalle tue fragilità per incontrare l'altro e per donarti all'altro. Quindi la cosa bella è che tu vai in queste strade che sono praticamente prive di tutto e trovi tutto una volta che torni. Nel senso che l'amore che hanno negli occhi coi bambini, la bellezza del dono gratuito che hanno quelle famiglie, ti resta e ti permette in qualche modo poi di tornare a casa e di portare quell'amore gratuito anche qua, nella tua città. Perché c'è un'Africa anche qua, a Pesaro, che è fatta di povertà interiore, che è fatta di povertà di valori, che è fatta di stanchezza, tristezza, quindi ci deve essere un ritorno al dono e alla bellezza. E l'Etiopia è un viaggio che ti regala quest'opportunità di vedere oltre, di andare oltre. È stata una lezione sul modo di vivere, su come si intende la felicità. Loro non hanno niente eppure riescono a essere felici. Noi che abbiamo tutti questa cosa non ce l'abbiamo. Ogni volta che mi viene data l'occasione invito sempre ai giovani a fare questa esperienza. Perché io l'ho fatta che avevo 17 anni ed è stata molto formativa e credo possa esserlo per tutti. Quindi se si ha la possibilità, intraprendete questa esperienza.